Abbiamo tantissima rabbia perché è inspiegabile il dolore che abbiamo sinceramente, però non voglio che accada ad altri bambini, ad altre persone. Era il 19 agosto quando il piccolo Gioele, uno dei fratellini di cuore amico affetto da una malattia rara, è stato portato con il 118 all'ospedale di Gallipoli in codice rosso per insufficienza respiratoria. Da lì l'hanno poi trasferito nel reparto di rianimazione del Dea di Lecce. Quello che è accaduto qui, poi, ci racconta mamma Sonia, è qualcosa che ancora sconvolge e fa molta rabbia. Durante l'adegenza, infatti, Sonia si è accorta che al figlio erano iniziate a gonfiarsi le gambe. Lo ha fatto presente tantissime volte, sia i medici che gli infermieri, ma la risposta, ci dice, era che dipendeva dalla posizione o che stava prendendo peso. Mi dicevano sempre, stai tranquilla, non è niente, non è un problema, ma io vedevo mio figlio dolorante, perché comunque, come veniva toccato, il mio figlio non parla, non comunica, diciamo, però comunica con gli occhi, che i suoi occhi parlano. E lo vedevo che era sofferente. Poi Gioele è stato trasferito in pediatria. Lì la dottoressa ha capito che c'era qualcosa di più. Fate le radiografie, infatti, è emerso che aveva fratture scomposte ad entrambe le ginocchia. La nostra fortuna è stata nel trasferimento della pediatria, dove abbiamo trovato una dottoressa veramente brava. Grazie a lei abbiamo fatto le radiografie e ci hanno praticamente diagnosticato che nostro figlio ha due fratture entrambe le ginocchia. I genitori, dopo questa diagnosi, hanno deciso di presentare denuncia in questura. Quello che vogliono è solo giustizia per il loro piccolo Gioele. Noi siamo arrivati per un problema dell'insufficienza respiratoria, non per un problema di frattura. Abbiamo fatto denuncia perché appena ci hanno dato la diagnosi, che comunque il nostro figlio aveva due fratture, entrambi le ginocchia, io mamma mi sono sentita in dovere, perché mio figlio purtroppo è un povero indifeso. Noi non abbiamo bisogno del risarcimento, ma di giustizia. Non voglio che accada ad altre persone, che vengono segnalate veramente queste persone, a farli capire che comunque questi bambini sono dei bambini piccoli e indifesi. Grazie. 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 Grazie.